Milton, Russell, ancora una volta qui con me, Davide Valsecchi. Davide, è fantastico averti qui con noi oggi. Vista la tua esperienza in pista, toglimi una curiosità. Come pensi che i piloti eviteranno lo stress del pre-gara quando... Vista la tua esperienza. 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 Vista la esperienza. Vista la esperienza. Tic. Vista la esperienza. Grazie a tutti. 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 L'auto dietro di te è a corto di carburante. Prova di staccarla senza correre rischi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 7,7 secondi. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.